Ciao Cristian, sei a Roma in occasione di tre presentazioni, una presentazione alla strada, un centro sociale, e altre due presentazioni in due librerie romane. Un pubblico di lettori estremamente differenziato, il tuo. Per chi è scritto il fumetto? Io ho cercato di scriverlo soprattutto per quelli che avessero dei pregiudizi nei confronti della nostra storia, ovvero per quelli che pensano fondamentalmente che il movimento di Genova fosse composto da black bloc a causa delle ripetute immagini di distruzione che hanno fatto vedere e continuano a far vedere quando hanno l'occasione in televisione e sui giornali anche. E infatti ho cercato di fare un libro il più possibile diretto, cioè senza metterci nessun tipo di sfumatura ideologica o... cioè io ho cercato di raccontare la mia esperienza perché spero che a vedere l'esperienza poi dopo uno si renda conto di che tanti pregiudizi su di noi e su tutto il movimento sono sbagliati. Forse è una speranza ingenua, però sembra a qualche effetto stia sortendo il libro. Cioè per quello che mi hanno detto e quello che stanno dicendo le recensioni, questo messaggio sembra arrivare, cioè per quello che ho visto il potenziale del fumetto alla fine di far immedesimare le persone nella storia sta facendo rivivere alla fine la notte della Diaz anche persone che non c'erano e spero che insomma qualcuno magari possa anche cambiare opinione poi su se avesse un'opinione piena di pregiudizi inculcati come mi è capitato spesso di dover affrontare insomma in questi anni. Perché hai aspettato tanto tempo? Eh innanzitutto dovevo innanzitutto assimilare l'esperienza perché ci è voluta un po' e poi l'idea mi è venuta poi parlando con un amico tre o quattro anni dopo e sulla base pure di alcune letture che avevo fatto di graphic novel come Mouse o Persepolis e ho visto insomma questo potenziale poi di raccontare anche fatti di cronaca o storie biografiche che poi avessero insomma un maggiore potenziale di diffusione in un certo senso. Quando avevo visto la Satrapi come raccontava la vita di una giovane iraniana e mi è sembrato di vedere l'Iran molto meglio di come lo dicessero mai i giornali o no? Per esempio insomma poi ci sono state tante le letture però poi ci è voluto anche un bel po' di tempo perché dalla prima stesura dello storyboard scrissi di getto sulla base di questa idea tipo sarà stato il 2004, 2004 e 2005 poi però insomma una parte ho allora avevo finito di studiare scienze politiche e stavo studiando più seriamente illustrazione cominciai per quel periodo, feci un corso, realizzai un libro per i bambini, vennero altri impegni in mezzo, emigrai in Olanda, dalla Spagna, insomma passò un po' di acqua sotto i punti prima di poter trovare la tranquillità e il tempo di dedicarmi, davvero e devo dire che è stata anche una fortuna da parte perché poi nel frattempo ho anche conosciuto, cioè ho ritrovato un amico di vecchissima data Sergio D'Argenio che mi ha aiutato moltissimo e mi ha insegnato moltissimo su come fare poi i fumetti, mi mandava libri uno a settimana su come fare l'inchiostratura noir o come fare, quindi insomma ho potuto pure fare studi specifici che hanno permesso poi la storia di prendere la forma che ha avuto adesso, anche grazie poi ai suoi consigli e perciò insomma sono passati tanti anni e alla fine la realizzazione è durata un anno e mezzo di duro lavoro devo dire perché comunque ci vuole molto lavoro per fare un fumetto, soprattutto insomma da soli, a volte normalmente si fa in squadra e poi perché dovevo pensare anche a lavorare però siccome in Olanda si riusciva a vivere, riusciva a vivere con un lavoro di tre volte a settimana, viva l'Olanda per questo insomma ho trovato il tempo poi di usare gli altri quattro però ho lavorato anche sette giorni su sette per fare questo fumetto. Ti aspettavi una simile accoglienza? No, mi sta decisamente sorprendendo, cioè io già a partire dall'editore io pensavo di… ci volesse molte difficoltà perché non avevo mai pubblicato nessun fumetto e pensavo poi che sarebbe stata una… probabilmente una lettura di nicchia, cioè che avrei trovato magari diffusione più che altro attraverso internet, magari la gente già interessata al tema, quindi non proprio il target che speravo di trovare, ovvero di gente che magari non fosse interessata al tema o magari… questo è sempre difficile, però che magari avesse appunto dei pregiudizi sulla storia. E poi però è stato sorprendentemente facile alla fine trovare… ho trovato interesse di più di un editore in quel momento, cioè in quel momento in cui ho cominciato a cercare e ho avuto la fortuna di trovare insomma un ottimo editore quando alla fine ha fatto una bella edizione, che ha raggiunto anche un'ottima distribuzione e quindi mi ha permesso poi davvero di realizzare questo sogno di raggiungere un pubblico più diverso, più diversificato. E anche in questi giorni sono sorpreso perché io sono… da quando è uscito il libro, è uscita una recensione sul venerdì e da allora sono… quasi quotidianamente mi stanno chiamando per… per parlare del libro, della storia e… e quindi so… vedo che sotto le ceneri che erano rimaste di… della storia di quello che è successo a Genova c'erano delle braci di gente interessata, no? Di… che insomma sta venendo fuori un interesse, cosa che io veramente non speravo dopo tanto tempo. Io pensavo che la memoria si sarebbe persa dopo poco tempo, onestamente. Cioè ero molto più pessimista quando ero appena uscito dalla scuola, insomma. E adesso vedo che nonostante tanti 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 tentativi di manipolazione di quello che è successo, rimane sia una coscienza della gravità dei fatti, sia un interesse a sapere di più. Dal 2001 a oggi è cambiata l'Italia? E se sì, come secondo te? Beh purtroppo la mia impressione è che sia cambiata in peggio, perché fondamentalmente poi… ci sono tante cose poi di cui bisognerebbe parlare, però… Restando nello specifico, cioè Genova poteva essere una grande elezione, e… però… avrebbero dovuto seguire delle misure. E invece le misure… ci sono state delle misure dopo Genova e sono state gravissime. ovvero… non solo non si è fatta una legge contro la tortura, sebbene quegli anni sia stati… cioè abbiamo casato l'attenzione internazionale su… che l'Amnesty International ha condannato i fatti di Genova come la più grave violazione dei diritti umani dal dopoguerra, dal secondo dopoguerra. E in un paese democratico. E… e poi ci sono state anche… cioè è stato comunque uno scandalo internazionale e di per sé comunque… cioè i fatti che sono venuti fuori sono stati… cioè veramente scioccanti per molti, no? Ebbene, cioè invece di fare una legge contro la tortura, invece di fare… di responsabilizzare le forze dell'ordine magari con l'identificazione, perché… ricordiamoci che alla Diaz erano i mascherati, addirittura i poliziotti, che c'è stata poi una totale umertà da parte delle forze dell'ordine nel fornire i nomi di quelli che hanno operato poi l'assalto. E… però addirittura… cioè non solo non si è fatto niente per cambiare le cose, ma addirittura sono stati premiati poi i poliziotti che hanno… che hanno diretto questo massacro, insomma. Cioè i poliziotti che erano alla Diaz, che è stato dimostrato a giudizio, che hanno introdotto le molotov false per incriminarci, che hanno diretto un massacro, no? E che al processo hanno… cioè hanno fatto varie figure e barbine proprio… Cioè lì sempre cercando di dire… ma noi non sapevo, ero lì davanti e non sentivo le grida, cioè era a corsa mezza Genova davanti alla scuola e loro non sentivano le grida stando lì davanti. Avevo il sacchetto blu con le molotov in mano ma non sapevo da dove venissero. Cioè a questo livello il giudizio poi è stato molto mite, a mio avviso, è avviso di moltissimi, insomma. Però ci sono state anche lì delle condanne, le responsabilità sono state accertate, è stato accertato per fortuna che c'erano le prove false che cercarono di farci finire 16 anni in galera, insomma. E che è successo? Che questi poliziotti per lì presenti sono stati tutti nel frattempo promossi ai più alti vertici della polizia italiana. Cioè li abbiamo ai vertici dell'antiterrorismo, li abbiamo ai vertici dei servizi segreti, li abbiamo ai vertici dell'antidroga, no? E anche a voler fare un discorso garantista, come dire magari sono stati promossi mentre ancora la magistratura stava accertando, anche a voler proprio essere estremamente miti, questo nel giudizio quasi a livello di ottosità, no? Comunque sia poi dopo c'è stata la sentenza e anche quelli condannati c'è stata la promozione di uno di loro che ha direttore dell'antidroga, neanche un mese e mezzo dopo che fosse stato condannato due anni per i fatti della Diaz. Ma mentre da un lato ci sono poliziotti che hanno rotto teste e che sono stati promossi, dall'altra parte ci sono manifestanti che per dei crimini che magari hanno fatto, magari spaccare una vetrina, si prendono la stessa accusa che avevamo noi di essere black bloc e si prendono da 8 a 16 anni per questo reato di associazione a delinquere. Quindi anche a livello giuridico noi abbiamo che da una parte in Italia non esiste una legge contro la tortura per punire i torturatori e dall'altra parte abbiamo una legge sull'associazione a delinquere che permette che un manifestante possa finire fino a 16 anni in galera, vediamo la sproporzione delle cose, voglio dire, in uno stato di diritto che viviamo, quindi io dico che se uno rompe una vetrina si prende una multa, no? Oppure, che ne so, vogliamo essere severi, diamogli un anno di galera, ma proprio esageriamo, no? Stiamo parlando da 8 a 16 anni nello stesso paese in cui uno rompe una testa e può diventare direttore della polizia. Quindi come faccio a dire che è diventata meglio l'Italia? Io la vedo peggio, perché questi fanno carriera e in tutti gli ambiti mi sembra poi, in troppi ambiti mi sembra che i demeriti facciano merito per fare carriera in Italia. Tu sei stato invitato in diverse trasmissioni dove ti hanno censurato, qui non c'è censura, quindi puoi parlare liberamente. Che cosa ti va di dire? Allora, da una parte c'è stata la censura, recentemente mi hanno invitato su Rai 3 alla trasmissione Tatami e secondo me, anche adesso, ringrazio lo staff delle Tatami perché secondo me il loro interesse di raccontare la storia era genuino, cioè pure il trattamento della storia come è stato fatto è stato genuino. Però poi non mi ha sorpreso troppo vedere che poi mancava una parte dell'intervista. Da una parte c'era... mi hanno permesso di dire delle molotov falsificate in televisione e delle promozioni ai poliziotti. Questo secondo me è stato un passo avanti importante per la televisione. Però era sparita quella parte del mio discorso sulle promozioni che diceva che un poliziotto, fourniere, è stato promosso un mese e mezzo dopo la sua condanna ed è sparita soprattutto completamente una domanda che era perché secondo te è successo? La risposta secondo me è sparita perché io non ho detto secondo me perché è successo. Io ho detto cosa ha detto Cossiga, che recentemente Cossiga, quando parlava dell'onda però, diceva che il ministro degli interni, Maroni, avrebbe dovuto fare quello che faceva lui quando era ministro degli interni. Parliamo di anni 70, ricordiamoci quella morte di Giorgia Lamasi per esempio, no? E quando era ministro degli interni, Cossiga ha detto quello che faceva, che era infiltrare i movimenti con agenti provocatori disposti a tutto, lasciare che mettessero a ferro e fuoco la città, capovolgessero macchine, disurgessero vetrine, incendiassero negozi e dopo, quando si è creato sufficiente consenso popolare contro manifestanti, è arrivato il momento di spezzare le gambe, diceva la frase di Cossiga era, è arrivato il momento che le sirene delle ambulanze devono suonare più forti di quelle delle volanti della polizia. Allora, questo l'ha detto Cossiga, che era ministro degli interni anni 70, poi è diventato presidente della Repubblica, adesso è senatore a vita, mi sembra che non sono io a dirlo, che è stato fatto a Genova, cioè, sono 30 anni che viene adottata questa strategia in Italia, e funziona, no? Perciò continua ad essere adottata, perché ancora adesso, che succede? Si sono macchine rovesciate a Genova, incendio, e secondo la gente, per tre anni, almeno fino alla scoperta delle Molotov, io meritavo 16 anni di galera, io come tanti altri, e non dimentichiamoci che ce ne sono alcuni che hanno preso questa condanna. Oltretutto, un'altra cosa, questa non lo sapevo ancora, ma l'avrei detto volentieri, quindi lo dico anche adesso, no? E' che c'è il caso di Antonini e Sanzonetti, che sono due giornalisti di Liberazione, se non sbaglio, che nel 2005 hanno denunciato le promozioni dei poliziotti sui giornali, sono stati denunciati per diffamazione, e adesso hanno preso una sentenza al Tribunale di Roma a otto mesi di carcere. Quindi, cosa? Io ho parlato anche io delle promozioni, continuo a parlare, invito a denunciare anche me, voglio vedere, cioè se avessero il coraggio, purtroppo temo di sì, di denunciare anche me, no? Per diffamazione. Cioè, questi poliziotti devono essere allontanati dalla polizia. E non ci sono dubbi su questo. Io lo dico sempre una cosa che ci tengo a dire, perché poi è importante, secondo me, e a me non piacciono le generalizzazioni in nessuna forma, non mi piace fare tutto nel buon fascio, e io non voglio mettere assolutamente nello stesso sacco i poliziotti che magari lottano contro la mafia, o semplicemente fanno il loro lavoro con onestà, no? Secondo me non è possibile associarli a questi criminali. Però se mettiamo i criminali al comando anche dei poliziotti onesti, cosa ci possiamo aspettare? Questa è la cosa che è grave.